Il Ministero del Turismo ha lanciato una campagna per la promozione dell'Italia all'estero che personalmente trovo sia perfetta come esempio per tutti quelli che non hanno ancora capito cosa vuol dire la parola cringe. Andatevela a vedere. In pratica c'è la venere di Botticelli, pure storpiata perché l'originale ha i capelli più lunghi e forme fisiche ben diverse, trasformata in una sorta di influencer e declinata in diversi fotomontaggi di dubbio gusto con lo sfondo di fotografie patinate che rappresentano tutti i cliché sull'Italia. Quindi ovviamente ce n'è anche uno in cui la venere mangia la pizza napoletana però sul lago di Como. Tecnicamente poi la campagna è piena zeppa di errori sia tecnici che strategici a partire dallo slogan Open to Meraviglia. Non ho capito che lingua sia, se italiano o inglese e dunque se uno straniero possa mai capirci qualcosa. O forse neanche gli interessa visto che anche tutti gli altri contenuti sono soltanto in italiano. Quindi tutta questa faccenda per chi è pensata? Per attrarre gli stranieri o per promuovere l'Italia agli italiani? Per questa operazione inoltre hanno aperto il profilo Instagram Venere Italia 23 che oltre a chiamarsi anche questo in italiano ha l'errore già nel nome perché poi che fanno? Fin'anno lo cambiano in 24 e così via di anno in anno? Ma soprattutto hanno scelto di creare un nuovo profilo unicamente dedicato a questa campagna invece di utilizzare un profilo istituzionale già attivo e che continuerà a vivere in futuro. Iniziando dunque a costruire una community da zero che è già destinata a restare orfana quando alla fine del contratto con l'agenzia i contenuti e gli aggiornamenti si fermeranno e tutto il lavoro verrà buttato invece di capitalizzarlo e valorizzarlo al meglio in futuro. Infine dicono e si vantano di aver trasformato la Venere in una virtual influencer ma tutto quello che hanno fatto non è altro che lavorare di grafica mettendo la testa della Venere sulla foto di una modella quando invece virtual influencer significa tutt'altro cioè creare un personaggio sotto forma di avatar 3d che quindi è in grado di interagire di muoversi di esprimersi all'interno ad esempio di un video e anche perché photoshoppare il volto della Venere su un corpo reale non ha nulla di originale o di innovativo è stato già fatto in passato in diverse campagne pubblicitarie si trova ovunque sui social media. Ora non so cos'altro sia previsto da questa campagna ma tutto questo ci è costato la bellezza di 9 milioni di euro per cui io ho un messaggio per quelli che contano e cioè che l'Italia è piena di belle cose che non possono essere ridicolizzate così ed è pure piena di professionisti e agenzie che avrebbero fatto molto molto di meglio con la mano sinistra e con la metà dei soldi Grazie. Grazie.